Un progetto di integrazione con i genitori sulla promozione della cultura ecologica, sulle possibilità di poter riciclare i rifiuti con una mentalità di sostenibilità dell'ambiente. E quindi oggi pomeriggio questo percorso POR si è concluso, si è svolto in partenariato con il WWF, esperti del settore hanno illustrato ai genitori una serie di tematiche sulla sostenibilità ambientale, sul compostaggio, sul come riciclare i rifiuti e sulle possibilità che abbiamo di incidere nella vita quotidiana in questo senso. Oggi pomeriggio c'è stata la mostra dei prodotti che i genitori hanno realizzato in questo percorso insieme agli esperti del WWF e ai nostri docenti ed hanno dimostrato come è possibile riutilizzare al meglio una serie di prodotti di utilizzo quotidiano. Soprattutto un'occasione in cui la scuola si è aperta ai genitori, sotto legge del comitato dei genitori dell'Iceo Manzoni, insieme ai docenti referenti Marisa Mattiello, Guido Guerriero, coadiuvati dal Pietro Iavarone e dalla professoressa Tameleo. Quindi diciamo un'ulteriore chiusura annuale di un'attività aperta senza altro al territorio, ma anche ai nostri genitori che hanno condiviso con noi questo bel percorso che ha dato soddisfazione a tutti e soprattutto è stato interessante ma anche molto gratificante ed attrattivo. Grazie a tutti!